La mia proposta è prima di tutto quello di aprirlo alla cittadinanza, farlo ritornare quello spazio che era stato progettato da De Carlo ma che per una serie di eventi non è potuto diventare completato in quel periodo e quindi è uno spazio ancora da terminare e in questo qui sta la sua forza, la forza di avere uno spazio che si destinerà solamente con l'utilizzo, noi chiediamo che questo spazio venga aperto e che le criticità che ha, le infrastrutture che gli mancano vengano adeguate nel momento in cui stesso viene utilizzato per farlo diventare un luogo di passaggio, un luogo centrale della città e farlo diventare una specie di piazza coperta all'interno della città di Urbino. Quando dici di utilizzarlo significa occupare gli spazi subito, cioè non aspettare che sia ottimato, questo è importante? Sì, va benissimo anche così com'è, siamo disposti ad utilizzarlo e farlo diventare noi è la base dei nostri progetti per entrare in contatto con altre facoltà, con altri studenti, con altre istituzioni e diventare veramente un punto di scambio, punto neuralgico della comunicazione all'interno di questa città. Il mio progetto per la data è un progetto interamente per giovani, dove i giovani possono lavorare, dove possono dare idee, dove possono creare, dove possono lavorare per quanto si sono formati, quindi spazi multimediali. La prima cosa che mi viene in mente è una biblioteca digitale che non c'è cittadina, perché abbiamo la biblioteca universitaria con tanta carta, ma non abbiamo qualcosa di digitale, multimediale, aperto alla cittadinanza e a tutti, dai ragazzi del liceo ai post laureati che si possono così informare e possono prendere insomma del materiale, consultare e magari strumenti nuovi come i reader, come computer, come grandi schermi per andare avanti. Io intanto ci metterei delle persone, come hanno detto giustamente i ragazzi prima e credo che dall'incontro delle persone possano nascere sicuramente delle idee. Sto pensando, in particolare è molto interessante perché è sicuramente un'idea molto innovativa, anche se sono dei progetti già che sono partiti addirittura dal 2004, facendo una ricerca prima in tutte le maggiori città italiane. Sicuramente sarebbe bello da questo punto di vista sfruttare i punti che abbiamo, come possono essere l'Isia o l'Accademia delle Arti o l'ISA, la creatività è come si diceva anche prima, proprio dai giovani si riparte ed secondo me sarà solo vivendola, ecco potremmo così esprimersi, aprirsi e creare anche dei progetti sicuramente interessanti e quindi portare anche magari diciamo queste piazze che ci possono essere o piattaforme che si parlano prima del web anche a livello reale. I tempi sono la questione più delicata, il poter rientrare il prima possibile ovviamente è quello che sempre ci si augura. Poi Urbino ha delle peculiarità, qui si dice che non c'è riscaldamento e la stagione in cui si va incontro non è certo l'estate ma si pensa già a autunno e inverno, ma questo non deve farci fare un passo indietro.